ciao a tutti ragazzi oggi sono su ghost of tsushima per mostrarvi la possibilità di editare anche questo titolo come vedrete potrò aggiungervi le risorse al massimo andrete nella tracolla e avrete legno metallo tessuto e beni tutti al massimo per adesso non potrò aggiungere i punti abilità ma in questi giorni sicuramente lo potrò fare quindi siete interessati ragazzi non esitate a contattarmi potrete farlo sul mio profilo facebook personale o sulla mia pagina ciao a tutti